Mathieu Van Der Poort, l'alieno, l'estraterrestre, ha deciso di distruggere la concorrenza, di annientarla in maniera spietata, partire lì dove gli umani si sono fermati, ritornando a scalare quel pezzo di salita a piedi. E lui, con l'esperienza del cross, della bici della cross, e avendo quella straripanza fisica, quelle fibre muscolari che sono impressionanti, è partito e nessuno è potuto arrivarci dietro. Era un motorino a confronto delle biciclette, un'altra gamba, un'altra classe, un'altra straripanza, ricordiamo che in dieci anni solo una volta non è stato nei primi dieci, e nella maggior parte dei casi nel podio, ragazzi stiamo parlando di un fenomeno. Il meteo classico del Belgio, si parte col sole, si finisce con la pioggia, tutto questo lo rende l'atmosfera molto più leggendaria, è un campione Van Der Poort, non è che oggi lo scopriamo, è un fenomeno, i fenomeni vingono. Però, da sottolineare il ritorno alla competitività di un italiano, Alberto Bettiol, che aveva fatto bene proprio in questa competizione, ed è entrato nelle prime posizioni. E questo comunque, perlomeno, un barlume di spirito italico si è tornato a respirare, noi che purtroppo adesso viviamo un'era ciclistica non straordinariamente bella, anzi, tutt'altro. Complimenti a Matti Van Der Poort, che si è potuto godere gli ultimi 500 metri, praticamente in surplus, talmente ha distrutto la concorrenza. Giro delle Fiandre, corsa bellissima, meravigliosa, è una delle top classiche, dopo la Milano Sanremo che non aveva ancora il canale, però è veramente bella, bella, bella. Complimenti a lui per questa straordinaria vittoria, l'ennesimo pezzo di ciclismo da leggenda. È talmente più forte poter zizzagare, finire in surplus, la folla è stasiata. Stiamo parlando di una prestazione aliena, proprio tu la devi incordiciare, devi dire grazie per aver avuto l'onore di vedere Van Der Poort. Poi alla Liegi Bastogliegi ci saranno anche gente come Pogasher, la concorrenza sarà più imponente, ma Van Der Poort in questo momento, in questa tipologia di corse, sembra veramente di un altro pianeta. Ha sollevato la bicicletta poco dopo la linea bianca del traguardo, ha regalato una gioia incredibile all'Alpesin. Fatto ciò, detto ciò, naturalmente, essendoci uno nettamente più forte, la gara ha perso di mordente. C'è stato quel momento, gli ultimi 44 minuti sono stati una sfilata, una sfilata autentica. E' lì poi... E' purtroppo Bettiol, come avete sentito dalla cronaca, negli ultimi metri si è impiantato e non è riuscito neanche a arrivare nei primi 3, è arrivato nei primi 10.